Stanco del solito mare in Toscana, con acqua torbida e spiagge affollate? Allora devi andare all'Argentario. Questo bellissimo promontorio vicino al Grosseto è perfetto per un weekend un po' diverso dal solito. Infatti qui puoi trovare di tutto, da piccole calette senza stabilimenti balneari ad una lunghissima spiaggia quasi deserta immersa in un parco naturale. E l'acqua è veramente incredibile. Oltre al mare puoi visitare paesini super carini e fare bellissime attività come percorrere una ciclabile immersi in una pineta o raggiungere avamposti da dover guardare tramonti unici sul mare. Se vuoi saperne di più guarda il video completo che trovi in descrizione e seguimi per scoprire tanti nuovi posti.